Ragazzi benvenuti e benvenuti al partito del canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su FIFA 21 a carriera allenatore Milan Le cose stanno andando abbastanza bene, anche se abbiamo una settimana di fuoco, visto che abbiamo Juve-Roma-Champions C'è tanta roba, quindi dobbiamo stare un po' attenti, anche se siamo in testa alla classifica, Champions va abbastanza bene Classifica Capocannonieri, diciamo che la fortuna in questo momento ci sta guardando, ci sta assistendo Ah ok, quindi queste sono le cose che mi spaventano, ho visto, sto attraversando, vabbè, pensavo che tipo si fosse fatto male Ci penserò, ma comunque penso che stai giocando veramente abbastanza bene E' stato secondo me un acquisto sbagliato, Fernandinho, vabbè, con la Juve dobbiamo stare attenti Perché la Juve, ma che magliette c'hanno, porca miseria Il Braille-Moveccio sta un po' stanco, però mi avete consigliato di cambiare ruolo, sia Bale che Dembélé Però già ve l'ho detto, dobbiamo capire bene, perché comunque Barbot sta diventando un CEC Dobbiamo vedere come sistemarci, molti l'ho fatti riposare, Romagnoli non si è ha riposato Vabbè, Chius, ovviamente lo mettiamo in campo, perché sinceramente sta giocando veramente bene Fernandinho mi sta veramente tanto deludendo Calabria, io lascerei la squadra così, perché non voglio fare tanti cambi Giustorebic, eventualmente lo facciamo entrare nel secondo tempo Qualcunque ha giocato, quindi si deve anche riposare Farei entrare, giusto, eventualmente, proprio eventualmente, eventualmente Un Cardoso Proprio la pensione, la pensione, la pensione Va bene, va bene, va bene, usciamo anche rapidamente Usciamo anche rapidamente, non vuoi far tirare Ok No, ho sbagliato qua, ho sbagliato, ma non c'è la spazza Occhio Di bala Eccolo Eh, ma quando non riesce a spazzare Ma Per curiosità, ma quante volte non siamo riusciti a beccare il gol subito? Cioè, quante volte non abbiamo rimontato? Raramente, praticamente Quasi mai Ma che ti è arrivato bene, guarda lì Chi è che ha sbagliato? Sì C'è entrava, fa il centrale Occhio Ma Non lo so, eh, vi dico la verità Non sto capendo niente E che facciamo? Muovo pure l'autorete, raga E va Aia Ok Aia, aia Non fa fallo Gli diamo una mano Ok, vai, vai Dembélé, vai Dembélé Guarda che buono, guarda che buono Vai, bra E che fai, Dembélé? Oh, Dembélé, però che palle è essa Sempre a rallentare Poteva essere una grande azione E vai, vai che buona, vai che buona Calabria, Calabria, Calabria Vai Porca miseria, che parata che ha fatto Dai, bra, dai, bra È buona, è buona Perché? No, dai, manci che... Ma tira la botta Tira meglio Oh, Bill Avanza, avanza, avanza Vai, Bill, vai Uh, aspetta, aspetta C'è un Dembélé che si sta riscattando Forse? Eccolo qua Cioè, non è possibile che gli tocchi e cada? Sì È nostro, è nostro Allora, ragazzi, subito, giri Se te ne vai, mi fai un piacere Dai, queste si... Ah, si stanno perdendo tempo, man Vabbè Ci siamo persi, secondo me, l'occasione Con Bill Con Bill abbiamo perso, secondo me, la possibilità Poi da lì Vai, Rembélé Ma scusami, ma perché c'ho Felix? C'ho Felix, ma sei arretato? Ok, va bene Mi sta che stai arretato, però Penso che sia la prima partita che perdiamo O la seconda, forse Non mi ricordo Vabbò, fa niente, tanto Non lo so, ho visto poca Ho visto poca roba Proprio pochissima roba Potevamo fare anche dei cambi, però Abbiamo finalmente interrotto la striscia positiva Siamo tutti quanti contenti È stato bello finché è durato Così basta, non ci fai più queste due palle Con questa domanda Avete perso contro la squadra Juventus Diciamo che non Piemonte Calcio Messa peggio di voi in classifica È seconda È seconda È cretino questo Io continuo a insistere Ce lo date un giornalista un pochettino più intelligente È stato un match complicato contro una persona tosta La squadra Piemonte Calcio Il nostro morale è alto Dai Grazie ancora per te Prego figurati Per cui testa la classifica L'abbiamo persa addirittura Mamma mia Vabbè comunque siamo a pari metri con la Juventus Che stiamo Qui è Che vuoi? Grazie Grazie prego È stato di per terra che abbiamo perso Anche se l'errore Obiettivamente Bisogna dirlo Ho fatto Romagnoli Vabbè riscattiamoci subito Dai Ci sarà Roma Farei riposare un po' di gente Ibra Mi di niente Ma devi riposare Che non puoi fare tutte le partite Cuncu Ovviamente ti faccio giocare anche a te Bail Ti faccio giocare Perché voglio vedere come reagisci Calulu Sei sempre un grande Ti faccio giocare Fernandino con Romagnoli lo facciamo giocare Calabria lo facciamo riposare Lo facciamo giocare con Caldara Hernandez no Benasser Facciamo riposare Che sì Che sì si deve riposare Che non Non mi dà sempre il massimo Bravo Bravo Joe Felix Avete visto Da anche la carica Eh No no Ci stava Vedi che fai Alla formazione di casa Basta un punto oggi Per portarsi al comando Della classifica Anche se sono sicuro No Arbitro e fallo Ma scusate Ma Vabbù Cioè Io passo Si è decisamente Incartato Con la palla Mannaccia Una miseria Caldara Se Ok bravo Praticamente Penso sia successo La stessa cosa Che è successo A noi Vero Era prevedibile Come passaggio Occhio 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 A Roma Non mi piace Porca miseria Romagnoli Che c'ha Romagnoli Che non l'ha presa No Sì Se l'ha perso Proprio Guardate Ma vabbè Piridacco Calcio Champagne Sì Se marchi No C'abbiamo qualche problemino A livello Di giocatori centrali Ma Oh santo cielo Fortuna Ma non è migliore Non ho capito Che Buona Ma che si è mangiato Ma da bene Che palla Ha fatto un bel tiro E lui che ha fatto Una bella parata Ho sbaglio Ho sbaglio Ho l'impressione Come se non ci fosse La base Niente Lo so Lo so Pure l'angolo Pure l'angolo Tutti avanti Tutti avanti Tutti avanti Tutti avanti Ah ecco Ah ecco vedi E' meno male E' meno male E' meno male Pensavo che parava Pure quello Mamma mia ragazzi Bellissimo Entra 10 minuti Doppietta Non ce n'entra Deve giocare Questo deve giocare sempre Deve giocare sempre Non ce n'entra da fare Deve giocare sempre Va bene Va bene Va bene Fa niente Ancora i falli Li fermano A questi Tutti rimpano Non piglio più niente E dai Wow incredibile Io non ci credo Ma voi avete visto C'è neanche il fallo E' stato bello Perché E' stato un fallo Tremendo Però manco l'abbiamo fermato Va bene Fa niente Bene così Almeno siamo riusciti A recuperare una partita Proprio Cioè Mentre con Con la Juve Pensavo che forse Potevamo anche Recuperarla Ma col Con la Roma Ho capito Che ad un certo punto Non ce la facevamo più Ho fatto dei cambi Assurdi Però ce l'abbiamo fatta Vabbè I miei amici Sono deputati Assoluto di questa vittoria Ma Ibrahimovic E' un'ottima prestazione Del compagno E' un grande Se non ci fosse lui Capirai E' stato un match Equilibrato Fino alla fine Avete trovato il gol L'avete Negli ultimi 5 minuti Con un po' di fortuna E' d'accordo Un po' di fortuna Ogni tanto non guasta La squadra Milano Ha sporato Al termine del match Combattuto Avete paura Ha Ha avuto paura Per un attimo Si Ma per un attimo Eh ciao Buonasera Vabbè Champions Che pure è importante Buon allenamento Non ci siamo proprio allenati Allora guardando Guardando Qua Praticamente L'Aleks Che era la squadra Che poteva darci Pensavo A parte l'atletico Un po' più fastidio Diciamo che Se vinciamo Potremmo essere abbastanza Stiamo a 10 Sì Dinamo Che rimane a 4 Ci abbiamo 6 punti di vantaggio Sì ce la dovremmo fare Allora Facciamo dei cambi C'è la Felix Lo faccio riposare Perché sta giocando tantissimo Meglio di no Che sì Sta giocando male Benasser Sta giocando bene Lo possiamo mettere A posto di Tonali A difesa Io Romagnoli Non lo toglierei Perché Romagnoli E' sempre Romagnoli Fernandini Facciamo gioco a Fernandini Che vi devo dire Fernandez Calabria Lasciamo così Poi eventualmente Facciamo qualche cambio Dai Mi raccomando Dai Andiamo Bella Ok Lo vedo proprio Già subito in palla A Rebic Non è buona Vattene Dembélé Vattene Dembélé Guarda che c'è Rebic Bravo Pensavo quasi Come la prendesse Però è stato bravo Ma Rebic C'era entrato proprio Proprio ha detto Segno Basta Ci penso io E ci ha pensato Guarda là Cioè l'ha visto proprio Guarda lì Ah sotto le gambe Bravo Che fai La stessa mossa Di Ibrahimo Quello si incazza Già sta giocando Al posto suo Guarda lì Guarda lì Ma una furia Una furia proprio Rebic E' una furia E' una furia Ora attenzione Ma che ho fatto? Ma che stai Ma che ha valutato? Ma che ha fatto? Scusate Questo è razzismo Ragazzi L'arbitro L'arbitro è razzista Bravo Benasser Ecco E' buona E' buona E andiamo 15 minuti Non stanno capendo niente Vedi Bale Quando vuoi Sai giocare Che poi mi dite Cambia modulo Cambia modulo Ma questi Questi si addormentano Ogni tanto Però a volte Quando giocano Sanno giocare Guardate lì Cioè La posizione Era anche abbastanza Complicata E' nostra E' bravo Vai Teo Non lo prendi Proprio più a Teo Non lo prendi Proprio più Vabbè Ancora Mi avete messo In panchina Con Vai Bale Vai Vabbè Ma come Verrà coordinato Ma stanno succedendo Un po' cose strane Ultimamente Cioè Anche Ibrahimovic Che svirgola Vabbè Vada lì Vada lì Ma che splendida Ma che splendida Ha svirgolato Mamma E forse Abbiamo sbagliato Guarda che c'è Dembélé solo E vai Dembélé Mamma mia Per una volta Gesto tecnico Spettacolare Porca la paletta Porca Volevano vincere Volevano Volevano vincere Una bordata Tremenda Ah ho capito Allora perché Abbiamo avuto Quella piccola Defaianza E quella di Ottimo cross Vada lì Vada lì Boh Si è fatto male Fernandinho Si è fatto male Fernandinho Si è fatto male Fernandinho Ma ti posso dire Ma ti posso dire una cosa Ma io te la dono Ah e vai Bravo Così si fa Ogni tanto Bravo Ah Alziamoli da terra A sti giocatori A sti giocatori Non è tanto Portiera Grande Allora Qualcuno Che Prendete tutti quanti In posizione Perché vi vedo Tutti quanti Uno addosso all'altro Vabbè Donnarumma Fatti segnare Perché tanto Questi devono segnare Oh Me ne era andato Mannaccia La paletta Occhio sulla fascia Ecco appunto Là Ne calabria E che fai Vabbè Fa niente Dai Fa niente Sembra buono E andiamo Mi dispiace Ma che si doveva segnare Non esiste Che ci avete fatto il gol Vabbè Punizione Prendete un altro gol Vabbè Finisce 5 a 1 Dai 5 a 1 Penso che abbiamo Dominato In questa partita Era buono dominare Abbiamo probabilmente Pensa a questo punto Che siamo passati Perché poi Che ha fatto l'Atletico Non ce lo dici Vabbè Come al solito Non lo sappiamo Quindi Dobbiamo attendere Però Credo che a questo punto Almeno siamo sicuramente Passati secondi Dobbiamo capire Che cosa faremo Con le altre squadre Per 4 settimane Che bella notizia Ci avete dato Pensi a guarire Parcha miseria Avete vinto di nuovo Pensa che la squadra Di Amokio Si sia risparmiata Merito dei ragazzi Questo risultato Conferma il suo pronostico La vigilia Che dava Di Amokio Sfavorita È stata una gran partita Thank you Thank you Thank you Thank you Vabbè Sì Ho capito Che Fainan È morto 4 settimane Distorsione al ginocchio Maledizione Dobbiamo capire Un po' come fare Perché Caldaro Lo stavamo facendo Diventare anche Terzino destro Proprio perché Avevamo Il difensore centrale Non ce l'abbiamo più Si deve fare Qualche cambiamento Secondo me Ah il Napoli ha perso La Juve ha vinto Ci abbiamo l'Atalanta Vediamo di Facciamo qualche cambio Anche se Io di Brahim Ce lo farei sempre giocare Perché Adesso è sempre meglio Giusto un Cuncu Dai Cuncu Lo facciamo riposare E facciamo riposare Pure un pochettino Al Calabria Con Caldara Che tra un po' Mi diventerà anche Il nostro fantastico Terzino destro Nandez lo farei sempre giocare Giochiamo così Fate bravi E segnate E soprattutto Fate segnare a Gio Felix Non mi segnalanza Un sacco di tempo Il ragazzo poi si Si demoralizza Nooo Ma che è Sto controllo di palla Così forte Si l'ho preso un po' L'ho preso un po' Portiere portiere Non usciamo così tanto Che si Siamo un po' troppo Laro Un po' troppo larghi Ho sbaglio Nooo Ma che bella palla Che mi dai Guarda lì Vabbè Credo che sia Una partita Molto strana Perché Stanno succedendo Cose Un po' Troppo strane Ecco qua Stanno succedendo Cose strane In questa partita Quindi attenzione Perché Ci abbiamo L'handicap La palla L'avevamo presa Però non ce l'ha data Ecco qua Vabbè Basta Stiamo a posto No Hanno segnato Possiamo stare tranquilli Hanno segnato Va bene Ok Forse adesso Ci fanno giocare Dai Dai Ma tira Porca miseria 30 minuti Che c'è bene Che sembra Abbastanza Ma non avevo dubbi Che la perdiva La palla Non avevo dubbi Non la riesco a dare Non segniamo Non segniamo Non segniamo Che facciamo Possiamo fare Tutte le azioni Possibili Immaginare Non ci fanno segnare Ancora Insistiamo Dai Se stai in fuori gioco Mi cazzo Ma porca miseria Ma sei cretino Io non lo so Questo Stai in fuori gioco Rientro Si E poi riparte Ma che riparti Se non ho calciato Già riparti Ma come è possibile Dai Ma stiamo scherzando Questo Para con un'altra palla Io non lo so Io non lo so Cioè da là sotto Non siamo riusciti a segnare Ah è gol Ah no Pensavo che non fosse entrata Pensavo che non fosse entrata Ma dobbiamo parlare ancora Dobbiamo ancora parlare Cioè io ma lo so Per me questa è una partita Truccatissima Questa è una partita Truccatissima Secondo me Cioè E vai Mamma mia E che cavolo Bravo Finalmente Ma poi giocava a sinistra Perché stava a destra Fa niente Meno male Meno male Torniamo un'altra volta Un po' Difensibile Mamma mia ragazzi Ci vinciamo questa partita Ma proprio E questa è la seconda volta Abbiamo giocato Secondo me bene Primo tempo Malissimo Secondo me Però fortunatamente Siamo riusciti a A raggiuffarlo Il problema è che Quando non giocano Quei giocatori La difesa è apparsa Molto solita oggi Ma veramente Abbiamo pigliato un godo Possiamo fare ancora meglio E' stato un match Equilibrato fino alla fine Avete trovato il gol Nella vettoria Negli ultimi 5 minuti Con un po' di fortuna E' d'accordo La fortuna non c'entra niente Bellino Con un'attivazione per la vettora Come giurica la passazione Dei suoi Hanno giocato bene Ciao Vabbè Allora a questo punto abbiamo Pari merito con il Milan Pari merito con il Milan E il Juve a 29 Napoli sta abbastanza Dietro Ronaldo risalito Porca miseria C'è una felice Ti vi dava un po' da fare Vabbè Ed è bella è una felice Dell'elevato minutaggio Ci vediamo Nel prossimo video Bye